Presidente, questa discussione e la conseguente votazione delle risoluzioni arriva troppo tardi. Abbiamo redatto una risoluzione in cui chiediamo precisi impegni al Governo, chiediamo di garantire la sovranità di Kiev, ma impegnarsi al tempo stesso al rispetto degli accordi di Minsk, per esempio. Ma soprattutto chiediamo di non armare l'Ucraina. E bisogna assolutamente fermare questa follia. Ma tutto ciò è già stato deciso dal Consiglio dei Ministeri e anche stavolta vi siete dimenticati che siamo una Repubblica parlamentare, esautorando Camera e Senato, che ci porta a conseguenze importantissime e pericolose al nostro Paese. Stiamo parlando di portare di fatto l'Italia in guerra, ma ve ne rendete conto? Il mio e il nostro voto saranno un chiaro e convinto sì alla pace e no alla guerra. In questi giorni stiamo assistendo a uno stravolgimento del nostro vocabolario. Da più parti ci si appella alla pace, ci si piazza davanti alle ambasciate per invocare il dialogo, ma poi si tagliano i ponti della diplomazia e si spinge per la militarizzazione degli scenari. Dei negoziati a Gomele ieri tra Russia e Ucraina qualcuno ne parla? Come stiamo sostenendo questo dialogo? L'esportazione di armamenti letali non può essere considerato un contributo alla pace solo se accettiamo di vivere ai tempi di una lingua neo-orveliana, dove il significato della parola pace viene stravolto e diventa il medesimo di guerra. La nostra Costituzione veta all'Italia di ripercorrere la corsa agli armamenti, nella convinzione che armi chiamano armi, guerra chiama guerra, e solo la pace chiama la pace. L'Italia ripudia la guerra, eppure ci apprestiamo a inviare armi all'Ucraina. E il fatto di non trovarsi solo in questa isteria collettiva non è certo un sollievo. Il primo ministro Tedesco Scholz parla di riarmo della Germania promettendo di raggiungere il 2% del PIL delle spese militari, come da diktat della Nato. Il primo ministro polacco parla della necessità di raddoppiare le spese militari. La Finlandia, paese che non appartiene alla Nato, annuncia la vendita di armi all'Ucraina. Non dovremmo essere orgogliosi di unirci a questa corsa alla guerra. Ciò che mi inorgoglierebbe, in quanto cittadina italiana, sarebbe un governo che invece non obbedisca ciecamente agli ordini di Washington e della Nato, ma che faccia del nostro Paese il perno per un possibile dialogo, per la diplomazia, per la pace. A partire dal proporre Roma come possibile sede degli incontri delle delegazioni, arrivando perfino a giocare un ruolo chiave nella riscrittura dell'architettura della sicurezza europea e internazionale. Grazie.